Anche i tuoi amici sono lupi? Sì. Fortuna che c'era Mel. È uno dei migliori chirurghi di Seattle. Dovrà operare con quello che riesce a trovare da home. E non... Non sarebbe un bene. Credite di armi? Se recuperiamo le scopre, sì. Buone possibilità. Crediamo di arrivare in cima al palazzo. Sei mai stato su questi ponti prima? Sì. Pensi troveremo molte iene? Spera tutti. Non lo so. E sei pronto ad affrontarli? Ieri l'ho fatto. Ma loro ti stavano dando la caccia. Dovremo procedere a zigzag. Quando siete scappati esattamente? Due giorni fa. E per andare dove? Non lo so. Solo... lontano. Ora vuoi dirmi perché ti stanno inseguendo? Lo sai? Vogliono ucciderti perché ti sei rasato la testa. Non era permesso. È la regola. E lo infranta. Gesù... E perché l'hai fatto? Sì. Sei un tipo punk? Qui la corrente è fortissima. Devi stare molto attento. Intesimo. L'ho già fatto altre volte. Maledizione. Chi è? Non lo so. Non è un lupo? Saremmo migliaia. Tu conosci ogni Iena. Smettila di chiamarci Iene. Certo. Sbruffone. Non è difficile. Aha. L'hanno fatto le Iene. Si è rapiti. Ok. Devo ammettere che... È piuttosto fico. Cos'è fico? Solo da deboli troviamo la nostra vera forza. Parola di oracolo? Sì. Vi facevo contrarie all'elettricità e a queste aberrazioni da vecchio mondo. Esistono eccezioni. Soprattutto per i soldati. Di nuovo. Grazie per la visione!